Laureato in medicina e chirurgia col massimo dei voti, specialista in igiene e medicina preventiva, direttore di distretto sanitario di base, matura interesse e competenza per le attività legate alla medicina territoriale. Direttore del Dipartimento di Continuità delle Cure dell'Asla Napoli 1 Centro, sviluppa strategie e modelli innovativi puntando al miglioramento dell'assistenza territoriale e domiciliare quale valida alternativa al ricovero ospedaliero improprio, assicurando il miglioramento dei costi e della qualità di vita dei pazienti. Presidente della Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto, tesoriere dell'Ordine dei Medici della provincia di Napoli e dal 1 ottobre direttore generale dell'Asla di Benevento. Premio per sempre scugnizzo per la sanità al dottor Gennaro Volpe!